Deve essere là sotto. Uccidermi, Nermi, sarebbe troppo anche per te, Lara. Dottor Uri, so perché non hai ancora premuto il pilletto. Sparami e i miei uomini ti uccideranno in pochi secondi. È l'unica cosa che sanno fare meglio di te. Sta zittana. Non ti muovere! Non puoi scappare! Uccidetela! Ora! Un generatore. Ci prenderanno giù il campo. Lara! Lara! No! Non spera! Singolo! Ripensa alla mia offerta, Lara! Prima che sia troppo tardi! Era già tardi quando hai tradito la mia famiglia! Troverò l'Atlante, Anna! I miei uomini muoiono come mosche là sotto l'arma! Se loro non lo trovano, neanche tu ci riuscirai! Vai all'inferno! Sta arrivando la Croft! Uccidetela e portatemi quel dannato Atlante! Eccolo! Deve essere quello! Un vecchio... Esco... E quelli sono contenitori... Di fuoco greco... Quell'odore... Oh no! Bruciato vivo! Oddio! Chi può averlo fatto? Che diavolo è? Questi contenitori... Sono ancora pieni di fuoco greco... Chissà se brucia ancora... Chi sono ancora pieni di fuoco... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti.